Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono particolarmente emozionata perché in questo video farò una cosa che in dieci anni di youtube non ho mai fatto anche se me l'avete chiesto talmente tante volte che è veramente finalmente arrivato il momento cioè in questo video parlerò interamente in sloveno, ovviamente vi metterò i sottotitoli come sapete ho due madrelingue quindi posso parlare l'italiano da madrelingua ma so parlare anche lo sloveno da madrelingua e questo perché seguitemi un secondo, proprio come le altre minoranze linguistiche come quella francese che c'è in Valle d'Aosta quella tedesca in Alto Adige, nel frio di Venezia Giulia c'è la minoranza linguistica slovena, siamo appunto vicino al confine e per quanto mi riguarda mio papà fa parte della minoranza linguistica slovena, mia mamma invece no quindi entrambi i miei genitori sono nati e cresciuti a Trieste, io sono nata e cresciuta a Trieste però il mio papà fa parte della minoranza linguistica slovena quindi con lui e con tutta la parte della sua famiglia ho sempre solo parlato sloveno mentre con mia mamma e tutta la parte della sua famiglia ho sempre solo parlato italiano e appunto visto che è tantissimo che mi chiedete di fare un video interamente in sloveno oggi lo farò sono super elettrizzata e vi giuro mi sembra di filmare il mio primo video perché non sono assolutamente abituata a parlare in sloveno davanti alla videocamera quindi per me sarà stranissimo, spero comunque che vi piacerà, magari potete imparare qualcosa di nuovo e niente, iniziamo! Con vedo, vamo zacelli s primerom, danes bom uporabila The Porefessional Pore Primer od Benefit se mi sdi tako čudno govoriti v sloveni, da zarec ne vedem, ne vedem razdražiti kako čudno je zame se pravi govoriti skoraj vsak dan oziroma vsak dan v sloveni, ne vedem govoriti pred videokamero je popolnoma drugače, zato se mi sdi super, super čudno ampak lepo, ne vedem, upam da vas bom razveselila s tem, ker zares me sprašujete za video v sloveniščini toliko let in sem si vedno mislila, da verjetno ni zanimivo in ne vedem, danes sem se končno odločila, da bom to naredila, tako da upam da vam bo všeč ok, kot puder bom uporabila Zoeva Authentic Skin, barva je številka Nič 9 Nič Charismatic nisem gotova, da je prava barva za me, ampak bomo vidi, ker je prvič ki rabem ta puder mislim, da je zares preveč tem, zato moram apsolutno menjati puder in bom odstranila to barvo, ker zares je, ne vedem, sem oranžna ok, sem spet nanesla primer in zdaj bom uporabila moj puder, vem da ta je točno moje barve in ta je nudissimo, barva je 242N od Diego Della Palma, dosti, dosti boljše bi rekla, dosti boljše kot concealer bom nanesla It Cosmetics Bye Bye Under Eye, mi je bilo všeč ta concealer, ker je full coverage z Beauty Blender bomo zablendirali concealer zdaj kot sem vam povedala v video v posnetku 2019 Awards bom takoj fiksirala concealer s pudrom v prahu, ta je od znamke Jeffree Star Cosmetics zdaj vedno z istim pudrom v prahu bom fiksirala tekoči puder po celem obrazu od bronzer in blush bom uporabila tega iz Magical Holiday Palette od Kiko in ta bo bronzer, ki bomo uporabljali, blush bo ta, highlighter bo pa ta, ki zgleda dovolj svetel za me ok, zdaj blush, menjam samo čopič, rabim isto palet wow, blush je zelo pigmentiran, zato moram paziti, da ne nanesem ga preveč zablendiram malo z roko, če je preveč kot vedno, ok imam zelo razpokane ustnice, upam, da se ne vidi, če se vidi, so pravi čujem ok, zdaj pa menjam spet čopič in bom nanesla highlighter tudi ta je super, super pigmentiran, skoraj preveč skoraj wet look bi rekla zdaj, začnemo z očmi, ta je Fenty Beauty Pro Filter Amplifying Eye Primer torej je primer za sencilo zdaj, kot sencila bomo uporabili Pixi Eye Palette se kliče Double Tap je prvič ki uporabi in to palet ampak barve se mi zdijo zares prekrasne začnem s to svetlo barvo in to barvo nanesem po celotni veki drugo sencilo bom uporabila je ta oranžno rjavkasta barva in nanesem to barvo samo nad zgornjo veko ta sencila so zelo pigmentirana in Pixi je zelo dober brand zato sem vedela, da bo sencilo tudi pigmentirano zdaj v očesno gubo bom nanesla totemnejšo rjavo barvo moram samo paziti, da ne grem previsoko s to barvo, da ne bomo pokrili rešnjo sencilo zdaj na spodnjo veko, sem spet menjela čopič bom nanesla obe te barvi skupaj temnejšo barvo bom dala malo več proti zunanje strani zdaj samo temnejšo barvo bom nanesla na spodnje trepanjice ker te barve se mine zdijo dovolj temne bom šla iskat eno drugo barvo rjavo da bi bila malo temnejša bom uporabila rjavo temno barvo iz Secrets of the Smoky Eye Palette od Deborah Milano ok, že boljše se mi je zdelo malo preveč močno in rdeče vse skupaj tako da zdaj bomo zablendirali malo in bo sledalo tako je boljše ok, kot eyeliner bom uporabila Scratch Eyeliner od Wycon Cosmetics prvič uporabljam t'eyeliner zato mi vem če je lahko ga uporabiti ali ne ampak ponavadi stemi se kar dobro dobi torej mislim da bolako kot ponavadi linea eyelinerja saj za mojo obliko oči more bit zelo zelo tanka ok, zdaj bomo narisali na šrepek sovražim moji obliko očesa vsakečko moram nanesti eyeliner ker je zares težko ok, kot svinčnik bom uporabila tega metallic eyeliner od NYX Professional Makeup je črn svinčnik ampak ima majhne bele glitter svinčnik je super pigmentiran ampak če moram pravo bit odkrita ne vidim glitterjev ok, nisem imela pojma kako se temu reče v sloveščini vem angliško besedo vem italijansko besedo ampak v sloveščini zaradi imam pojma in sem bojskala na googlu zgleda, da se to kliče vikler vikler za trepanjice nimam pojma, če je pravo ime ali ne že nekaj časa ne grem na laš lift torej mi rabi ok, zdaj kot pa skaro bomo poskusili majtoj boj od Diego Dala Palma je zares ogromen ogromen in upam da mi bo uspelo ga uporabiti ja, bi rekla pravo da rezultat je wow pogledajte razliko mi je zelo uščet ta maskara je prvič ga uporabljam danes ok, za obrvi bomo uporabila svinčnik Diego Dala Palma ta je eyebrow powder pencil številka 114 obožujem ta svinčnik ga uporabljam že leta in mi je super, super ušče mogoče balba je malo, malo temnejša od balv, ki sem bolj vajena uporabljati zadnje čase ampak mi je vedno zelo, zelo ušče ta svinčnik kot šminko za osnice pa bom uporabila tega Diego Dala Palma ne vedno zakaj se mi zdi da vse kar sem uporabila danes je od Diego Dala Palma ampak se je kar zgodilo tako in ta je Geisha Matte Liquid Lipstick barva številka 9 je prekrasni nude to je pa final look za danes ne, ne predem pozabim moremo še fiksirati vse skupaj z Fixing Spray ta je Hangover 3 in 1 ob Too Faced Peach Extract mmm this is super dope pobresqui mmm ok ragazzi ritorno all'italiano per salutarvi spero davvero vi sia piaciuto questo make up tutorial il risultato mi piace un sacco ma più che altro il fatto di aver parlato sloveno è stato stranissimo anche se mi è piaciuto molto dopo un po' mi sono sciolta inizialmente era stranissimo adesso invece verso la fine mi sembrava mi veniva già un po' più naturale comunque niente spero vi sia piaciuto ragazzi davvero vi mando un bacio grandissimo ricordate sempre che vi voglio bene leggo sempre tutti i vostri commenti e messaggi non vi do mai per scontati per me siete davvero tanto tanto importanti non so cosa farei se non vi avessi nella mia vita quindi sappiatelo e niente bacio grande noi ci vediamo domani con un nuovo video sempre alle 17.30 se non sono in ritardo se sono in ritardo un po' dopo ma comunque ci vediamo domani ciao ciao ciao